Cominciamo. Vi presento Scimpanzee 9. La terapia genica permetterà al suo cervello di creare cellule proprie per autorigenerarsi. La definiamo la cura per l'Alzheimer. È furbetto lui. Casa. Hai imparato il linguaggio dei segni? Soltanto poche cose. Cesare mostra capacità cognitive che cedono di gran lunga a quelle di un suo omologo umano. Il farmaco nel suo sistema ha radicalmente incrementato un sano funzionamento del cervello. Il farmaco funziona? I test devono essere limitati. Quello è uno scimpanzee. Stai bene, amico? Non sei un animale domestico. Lei non va da vestire. Lei è suo figlio. Dovrete pagare per questo sistema di che se io ho fatto. Razzilli dov'è! Papà! Non ha mai vissuto con altri scimpanzee. Devi restare qui. Non andremo a casa per ora. Guarda chi c'è. Si crede speciale? Stupida scimmia. Imparerà presto chi comanda. Non sapete con chi avete a che fare. Stupida scimmia. 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 Grazie per la visione!